Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Lasciate questo spazio libero Vi metto tutto da quella parte Grazie a tutti I testimoni I testimoni Grazie a tutti Grazie a tutti Per debito d'ufficio e norma Do lettura degli articoli del Coggio Civile Che regolano i diritti e i doveri dei congi per loro Articolo 143 Diritti e i doveri reciproci dei congi Con il matrimonio Il marito e la morire Acquistano gli stessi diritti E assumono i medesimi doveri Dal matrimonio Deliva l'occupico reciproco Alla fedeltà All'assistenza morale E materiale Alla collaborazione Nell'interesse della famiglia E alla coapplicazione Entrambi i congi Sono tenuti Ciascuno in relazione Alle proprie sostanze E alla propria capacità Di lavoro professionale Casalindro A contribuità I bisogni Della famiglia Articolo 144 L'indirizzo della vita familiare E residenza della famiglia I congi Concordano tra loro L'indirizzo della vita familiare E fissano la residenza della famiglia Secondo le esigenze di entrambi E quelle preminenti Della famiglia stessa A ciascuno dei congi Spetta il potere Di attuare L'indirizzo concordato Articolo 147 Doveri verso i figli Il matrimonio Impone ad ampe due congi L'ottico di mantenere Istruire ed edutare La propria L'indirizzo Il promulgio Delle capacità Dell'indicazione naturale E delle aspirazioni Dei figli Lei signor Serafolco Intende di prendere In moglie La qui presente Signorina Cerbara Stefania? Sì Lei signorina Cerbara Stefania Intende di prendere Per marito Il qui presente Signor Serafolco? Sì I signori testimoni Hanno udito? Sì Sì In seguito Alla risposta affermativa Dio avvocato Sandro De Gasperis Sindaco ed ufficiale Dello Stato Civile Del Comune di Castellini In nome della legge Dichiaro Che il signor Serafolco E la signorina Cerbara Stefania Sono uniti in matrimonio Gli sposi Si scambiano le fedi Ecco Eccolo 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 Lo ha messaggiato Dammi un po' E' un po' Eccolo Doppio Doppio nome Ma qui non c'è effetto Guarda Ma la pratica Come a Donalcanzio Come a Donalcanzio Lo va a fare Come lì La pratica Non è prevista Adesso Diamo scambiare Che è il verbale Diciamo che Riguarda la cittadina Allora L'anno premina A dimondici Del mese di dicembre Alle ore 18 Minuti 30 Nella casa comunale In una sala Aperta a pubblico Avanti a me Avvocato Sandro De Casper Il sindaco ufficiale Dello Stato Civile Comune di Castellini Vestito in forno ufficiale Sono personalmente comparsi Serafolco Cere Nato il Santu Madre 15 dicembre 169 Di professione Agente di polizia penitenziaria Nato Residente in Prato Cittadino italiano Cervara Stefania Unibile Nata in Correferro Il 21 luglio 1976 Di professione Massio fisioterapista Residente in Castellini Cittadina italiana I quali Mi hanno richiesto Rividirli in patrimonio E a questo effetto Mi hanno presentato Il loro documento Sotto descritto E munito del mio visto Inseriscono il volume Dei allegati a questo registro Insieme con quelli Già prodotti All'altro Della richiesta Della pubblicazione Dall'esame Di tutti gli ansietti Documenti Risultandomi Nulla ostanca La celebrazione del matrimonio Ho letto agli sposi D'articolo 143 144 147 Del codice cd Quindi Ho domandato allo sposo Se intende di prendere i mori Da chi presente Cervara Stefania E questa se intende di prendere il marito Di chi presente Cervara Stefania Ed avendoli ciascuno Resposto Affermaticamente A piena intelligenza Anche dei testimoni Sotto dedicati Ho dichiarato Che medesimi Sono uniti i matrimoni A quest'atto Sono stati presenti I quali testimoni Cervara Enrica Ad accorre il verbo Il 15 febbraio 1970 Casalinta Residente di Castellini E Rosati Massimiliano Nato a fondo Il 12 settembre 1971 Imprenditore Residente di Monte San Viaggio Il documento presentato È certificato Delle eseguite pubblicazioni Senza opposizione In questo comune Nel comune di Prattoli Nel 2 domenico Consecutivo Il 19 e il 26 novembre Del 2000 Questo è l'atto Che rimane Per il primo Di Prattoli Io vi faccio Vittorio a voi Dico che il matrimonio Ovviamente È morta Questo è il discorsetto Da marito Quali sono Da anni Il primo Segreto Del matrimonio È il rispetto Del compagno E della compagna Se viene meno Rispetto È finito Il matrimonio Se si ha rispetto Della persona Che si ha a fianco Io credo Che si superano Tutte difficoltà E Qualsiasi tentazione Svanisce Perché Se ho fatto una scelta Ho rispetto Della persona E il suo rispetto Superano Tutte difficoltà E la vita Vi porrà Di fronte A quegli ostacoli Ma con questa piccola Regoletta Io sono sicuro Di scelta Grazie Bravo Mamma Grazie 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 Grazie